Il prossimo avversario del Napoli, ovvero il Torino di Walter Mazzari. Parliamo appunto di questo Torino che il Napoli affronterà domani sera. Il Torino di Walter Mazzari ha l'ottavo posto in campionato con 34 punti che sono frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Lo score dei Granata parla di 28 gol fatti e 22 gol subiti. Con i 28 gol fatti si tratta del dodicesimo attacco del campionato mentre migliori sono i numeri per quanto riguarda il pacchetto difensivo perché con i 22 gol subiti si tratta della quinta difesa del campionato di Serie A. Il modulo ovviamente che Mazzari utilizzerà domani sera sarà il consueto 3-5-2 con la formazione che dovrebbe essere quasi certamente la seguente, Sigu in porta, linea difensiva a tre con Izzon, Kulu e poi Moretti sulla sinistra. A centrocampo Aina, Lukic, poi appunto Rincon, poi c'è il dubbio tra Baselli e Meite come interno praticamente di questa linea 5 di centrocampo e poi Ansaldi sulla sinistra. Il duo di attacco dovrebbe essere Iago Falche più Belotti. Come a solito andiamo ad analizzare due fasi di gioco del Torino quindi la fase passiva di non possesso e quella attiva appunto di possesso palla. Nella fase passiva di gioco il 3-5-2 di Mazzari diventa una sorta di 5-3-2 con i due esterni di centrocampo che domani dovrebbero essere Aina e Ansaldi che scendono sulla linea dei difensori a formare una linea di difesa a 5 molto compatta. La caratteristica della fase difensiva del Torino è rappresentata dalla grande pressione che viene portata sui portatori di palla avversari. I centrocampisti e i difensori Granata fanno molto volume in mezzo al campo e molta densità per togliere gli spazi agli attaccanti avversari. La conseguenza è che la squadra gioca in fase passiva molto raccolta in pochi metri complicando di molto quindi la manovra di gioco degli avversari ai quali non resta che giocare di prima per evitare la pressione dei difensori Granata. Nella fase attiva quindi di attacco del Torino il 3-5-2 si trasforma in una sorta di 3-4-1-2 con Baselli o lo stesso Meitei che spesso vengono a salire dietro le due punte Jacofalca e Belotti perché domani appunto io ritengo che Jacofalca sarà preferito a Zazza nel duo d'attacco. I due attaccanti giocano spesso molto vicini fra di loro con Jacofalca e leggermente dietro Belotti. La fase di attacco ovviamente dipende però dalla vena dei due appunto che sono nel reparto offensivo di questa squadra che è sembrata una coppia molto affiatata al pari di quella tra Zazza e Belotti. I due uomini più pericolosi però sono Meitei, vera rivelazione Granata sin dalle prime giornate di campionato e Aina, un esterno di attacco ex-Celsi molto forte. Dai piedi di Aina e di Meitei partono molto spesso le azioni di contropiede dei Granata una volta recuperata palla al centrocampo e quindi molta attenzione dovranno porre a questo particolare tattico del Torino i centrocampisti del Napoli per evitare pericolosi contropiede che potrebbero innescare poi le azioni d'attacco del duo Jacofalca e Belotti appunto domani sera che sono i pericoli numero uno per la difesa del Napoli nella gara Napoli-Torino del San Paolo. Perfetto, perfetto Natale.